bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video io sono kino e oggi vedremo insieme raga come meglio costruire o meglio quali tipi di materiali è meglio usare in base ai tipi di zombie che ci arriveranno in certe tipologie di missioni mi spiegherò meglio raga chiunque gioca salva al mondo avrà notato che ci sono tre tipi di elemento sugli zombie o meglio ci sono gli zombie di tipo natura quelli di tipo fuoco e quelli di tipo acqua oggi andremo a vedere quali materiali da costruzione è meglio usare in base a queste tre tipologie di zombie che ci arriveranno ma vediamoli insieme raga eccoci qua col primo zombie raga come potete ben vedere questo è di tipo fuoco quindi come abbiamo imparato nei pokemon con lo zombie di tipo fuoco sarebbe meglio usare un'arma d'acqua ma la caratteristica che più ci interessa a noi in questo video è con lo zombie di tipo fuoco come è meglio costruire e sarebbe meglio costruire raga col metallo oppure la pietra in questo caso legno i zombie di fuoco lo farebbero fuori proprio in due secondi poi abbiamo gli zombie di tipo natura raga che sarebbero elettrici una sorta di elettrico natura non si è ancora ben capito lei che cosa abbia in mente comunque sarebbe meglio utilizzare armi di fuoco in questo caso raga il metallo non utilizzatelo perché ve lo fanno fuori proprio immediatamente infine per ultimo raga abbiamo gli zombie di tipo acqua ci sarà consigliato utilizzare armi di tipo natura e ovviamente non usare il mattone per costruire quindi costruiremo di metallo con questi ultimi quindi raga prima di cominciare una qualsiasi missione a difficoltà 4 giocatori vi consiglio di guardare sulla vostra sinistra il rettangolino rosso che vi indicherà di che natura spawneranno i mob dopodiché scogitare già di che materiale usare per costruire e difendere l'obiettivo raga nelle altre missioni purtroppo non ve lo farà vedere e ve lo annuncerà non appena in teoria vi avvicinate all'obiettivo mettete il blob dipende un po' da missione a missione ogni missione ha le sue caratteristiche come potete vedere qua spawneranno di fuoco e invece se non sbaglio qui d'acqua quindi abbiamo un simbolino differente per ogni tipo di natura che ci aiuterà appunto a distinguerli raga ecco appunto come dicevo raga addirittura un sifone se lo andremo a attivare dovrebbe dirci di che natura spawnano gli zombie vediamolo insieme comunque nei messaggi in alto subito dopo tutti questi messaggi che compaiono raga aspettiamo un po' no forse ce lo dice mentre lo attiviamo esatto questa tempesta contiene nemici di elemento tipo fuoco quindi potremo costruire sia di metallo che di mattone raga l'importante è non usare la legna e invece l'obiettivo della missione sono certo che ce lo dica subito dopo tutti sempre questi messaggi che comparino in alto eccolo qua raga questa tempesta contiene nemici di elemento acqua sono consigliate le armi tipo natura però è consigliato anche usare il metallo per costruire ecco raga adesso vedremo se siete stati attenti qua veramente ci sarà da strizzarci strizzarci il cervello perché quando salirete di livello e vi capiterà una missione come questa dove avremo una tempesta di ghiaccio quindi che trasforma tutti i nemici elementali in acqua noi non potremmo usare il mattone ok se scorriamo in basso facciamo caso che dice anche corrosione del metallo gli attacchi in mischia degli abietti corrodono il metallo degli edifici raga quindi qui non possiamo usare né il mattone né il metallo ovviamente non possiamo usarlo è ipotetico cioè voi potete benissimo usarlo ma vedrete che sarà meglio usare la legna appunto potenziata al 3 quindi raga fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video se vi è stato utile e soprattutto se avete mai fatto caso a questa cosa che gli zombie di certi tipi di natura fanno appunto più fatica o fanno meno fatica a rompere certi tipi di strutture fatemi sapere anche se il video vi è piaciuto se vi va mettete un like e condividetelo se vi è piaciuto se vi è piaciuto se vi è piaciuto grazie a tutti